bentornati bentornati sul sul canale restiamo restiamo in attesa siamo ancora in in attesa delle degli articoli del questo lo dico prima del di parlare di del tema del video ancora in attesa degli articoli indignati per la le simulazioni di chiesa della juventus come siamo ancora in attesa articoli indignati per le simulazioni di teo hernandez come siamo ancora in attesa degli articoli indignati per le simulazioni di belotti di immobile siamo ancora in attesa io resto in attesa ad esempio per quanto riguarda federico chiesa sta una bieca simulazione scena contro la lazio martedì sera adesso siamo a giovedì sera sono passati passate 48 ore ancora non ho letto nessun articolo indignato dei moralisti di quelli che così non si fa di quelli che se un simbolo della nazionale evidentemente sono questioni che riguardano solo barella e non mi si venga a dire barella in quanto tale perché quando gioca in nazionale non ho mai ascoltato nessuno parlare di barella a simulatore barella che accentua eccetera eccetera come chiaramente non si parla di immobile non si parla di quando gioca in nazionale problema quindi evidentemente è l'inter mi sembra mi sembra chiaro il tema di queste di queste ore visto che non ci si può attaccare quasi ormai più a nulla sembra essere quello del della stabilità della continuità tecnica del se si parla della juve e la juve ha fatto mercato a zero ha fatto quello che poteva anzi un miracolo che è stata fin lì fino lì dietro all'inter fino a febbraio se si parla del milan che ricordiamo che sono a 20 e 14 punti non a 2 a 4 20 e 14 punti si parla del milan il discorso è e beh però il milan ha cambiato tanto difficile assemblare tutti questi nuovi giocatori insieme pare che il milan abbia cambiato nove elementi rispetto all'anno all'anno passato e qui arriva lo stupore stupore di chi non penso non non abbia tempo di verificare non voglio pensare a menzogne lo stupore derivante dal l'inter a attualmente 13 nuovi giocatori rispetto alla passata stagione tre portieri zommer di gennaro e e e audero e proprio ci sono pavar frattesi tioram carlos augusto quadrado e buchanan bisec classen e sanchez e arnautovic non so se ho detto arnautovic e arnautovic sono 13 comunque il conto è presto fatto quindi perché questo discorso deve valere per uno e non deve valere per l'altro la solita disquisizione miope la solita narrazione indirizzata plagiata manipolata è però di questi fondamentalmente escludendo il portiere che poi perché si deve escludere il portiere quindi il portiere i titolari cambiati veri e propri sono sono due gli altri c'erano già tutti sono pavar e tioram questa è l'obiezione che si muove escludendo il portiere quindi i titolari nel senso sull'undici base che domani giochi nella finale di champions chi scenderebbe in campo avendo tutti a disposizione i titolari fondamentalmente sono due tioram al posto di dzeko o lucago insomma chi per chi vogliamo mettere e pavar al posto di skrini a tutti gli altri già c'era perfetto ricordatemi i titolari del milan cambiati rispetto all'anno scorso chi sono reinders loftus chick reinders per tonali loftus chick per brian diaz e pulisic per messias salemakers insomma chi volete voi se di là valutiamo il portiere perché a tutti gli effetti ormai soprattutto per come gioca in zaghi è anche un giocatore di movimento facciamo conto pari quindi anche qui cade questo chiaramente se vogliamo fossilizzarci su un discorso che andava bene fino a 15 anni fa diciamo da 15 15 anni fa è vero che c'è una formazione base dei titolarissimi come li chiamava mazzar quelli che tu sceglieresti in caso di di disputa di una finale di champions league però un esempio che con la realtà e la gestione di una stagione ha poco calzante francamente è poco calzante siamo ai livelli di un giochino stiliamo la formazione dei titolarissimi e vedi ah ok è un giochino l'inter ne ha cambiato i tre il minano ne ha cambiato i tre appunto è un giochino la realtà ti dice che una stagione oggi nel 2024 ma già da 15 anni tu te la giochi anche se non soprattutto se non soprattutto sul livello delle alternative che diventano veri e propri titolari aggiunti e questo ragazzi ve lo può dire benzaghi tanto quanto ve lo può dire pioli quanto allegri tutti gli allenatori soprattutto quelli che fanno le coppe europee quindi allegri abbiamo sbagliato ci siamo capiti sono concordi e non può essere altrimenti le rose oggi e non è un qualcosa di così impacchettato e messo lì alla mercè si valutano sui 25 giocatori non più sugli 11 ma da mo ma da mo lo facciamo perché è un giochino valutarlo sull'11 ma se oggi noi parliamo di Turam e Lautaro un po' appannati è anche perché in quel settore le rotazioni sono state meno efficaci per diversi motivi rispetto ad altri settori in cui ti ritrovi comunque Pavard brillante Bissek brillante Darmian brillante eccetera eccetera e così via perché? perché appunto le rotazioni sono la chiave per squadre che giocano le coppe che ambiscono ai massimi livelli di quello stiamo parlando ecco quindi da questo punto di vista decade totalmente questo discorso che è molto superficiale molto banale un discorso che lo sapete come la penso io ma veramente non è una questione soggettiva è oggettivo che sia così faccio qualche nome giusto per farvi capire la portata della sciocchezza che si sta dicendo ormai da qualche giorno Carlos Augusto Darmian e Frattesi tre alternative che qualcuno chiamerebbe panchinari che in realtà sono titolari aggiunti che sono stati decisivi letteralmente decisivi in questa stagione ma non decisivi per modo di dire ma decisivi e che hanno giocato tante partite titolari Frattesi ha giocato tantissime partite titolare nel gironi di Champions League Carlos Augusto ha giocato titolare se non il 50 forse il 40% delle partite rispetto a Di Marco utilissimo anche come backup di bastoni stessa cosa per Darmian che oggi ditemi chi è il titolare tra Darmian e Dunfries e quindi è chiaro che si va ancora una volta a dover sottolineare l'inconsistenza fotonica inconsistenza fotonica di alcuni personaggi che si ritengono essere degli opinionisti che hanno anche un credito hanno un credito però è chiaro in un pubblico dal basso livello concettuale se guardiamo al calcio chi conosce le dinamiche del calcio di oggi ripeto non è una questione del 2024 sono 15 anni che è così non può fare questi discorsi quindi questo è un altro appiglio che qualcuno prova a dare scusante di altri per io non parlo di fallimento francamente parlo però di alibi che vengono dati che non hanno ragione di esistere in realtà anzi 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 a maggior ragione va elogiato il lavoro dell'inter dalla dirigenza al magazziniere per quanto sta facendo a prescindere dai risultati a prescindere dai risultati voi vedete un'impalcatura di gioco che esalta che esalta ai singoli e non fai più distinzione tra quelli che ci sono da anni e quelli che sono arrivati la scorsa estate proprio grazie al lavoro quindi ragazzi sciocchezze fotoniche spediamoli al mittente e ragioniamo sempre con il nostro brain un saluto grazie a tutti